Siamo a Torino di Sangro, in località Lago Dragoni. La via verde si interrompe qui perché qui ci sono problemi annosi di erosione. E da allora sono partiti due cantieri, uno contro l'erosione e uno per creare una barriera di contenimento che va a beneficio sia della Statale 16, che è proprio qui, e sia per continuare la via verde. Sindaco Nino Di Fonso, è iniziato un cantiere importante dopo tanti anni. Ha detto benissimo, importante dopo tanti anni. Finalmente in questo periodo si è iniziato questo bellissimo cantiere, si è iniziato a riprendere forma dell'ex tracciato. Ci sono due cantieri aperti, uno qui sul posto dove stiamo ricostruendo la barriera rende che va a proteggere la cosiddetta via verde. E non solo, anche la Statale. Anche la Statale 16, che ahimè era a rischio, finalmente sono arrivati questi fondi e quindi siamo lato. E poi ci sarà un altro intervento a prossimi giorni, che ci saranno due pennelli che vanno verso largo circa 200 metri, con una scogliera che protegge l'erosione della costa. Arriveranno questi blocchi nell'altro cantiere? Allora, siccome io ho voluto fortemente che tutti i cantieri lavorassero, per non sovrapporre abbiamo fatto due cantieri diversi. Quindi sulla borgata marina andranno a depositare le scogliere e si farà un lavoro a mare. Voglio assolutamente che entro maggio si finisca i lavori e auspico adesso che la provincia faccia la sua parte affinché tutti insieme, comune, provincia e regione, come ci siamo saluti a quel bel tavolo, faremo il bene non solo dei terruinesi ma anche di tutti gli abruzzesi. Dobbiamo dire che i suoi lavori andranno avanti fino a quel punto e subito dopo? Subito dopo adesso ci sarà l'intervento della provincia che con il ribasso d'asta andranno a risolvere quelle criticità che ci sono in essere, non solo qui ma anche su altri posti, si parla di carriere e quant'altro. Però c'è una sintonia tra il Presidente Pupillo e me e la regione quindi quando si lavora in sinergia si porta i risultati a casa. Importo di questi lavori, di questi pennelli? Allora un milione di euro sul proprietario delle opere pubbliche, un milione e due fondi cipe che si faranno a mare. Voglio solo dire una cosa che questo sindaco nel 2019 maggio non sapeva neanche se le opere si potevano fare e non c'erano i soldi. Mi sono presso una scommessa, dopo un anno sono qui a dire finalmente stiamo facendo le opere.